figurati ma ti ferisce il fatto che su web ancora è presente questa associazione credendo di far bene adesso vado in televisione e lo dico dico ragazzi io per un po' di tempo ho frequentato gente che si drogava, l'ho fatto anch'io ma non fatelo perché è una grande sono conosciuto do un messaggio ai ragazzi dicendo ragazzi è una cagata non fatelo, non serve a niente non hai i vantaggi hai solo degli svantaggi vivi in un mondo che non è la realtà ti circondi di persone che in realtà non tengono a te non ti vogliono bene non hai amici veri non c'è una cosa che ti possa dare un vantaggio dico così do un bel messaggio però se tu dici io mantengo due canili il giorno dopo ne frega più niente a nessuno se dici una cosa così dopo 27 anni ancora se apri il roncatto da un... Grazie a tutti.